Schiacciatona ora, direi a Ennamoroso che si appende al ferro Voleva il fallo tecnico, il popolo biancazzurro, così non è Contro Rai Ennamoroso Per l'organizzazione di Merletto per la schiaccia Ennamoroso, realizzare Innamoroso, realizzare Tornata del campionato di Lega 2 ad Ecosilver La capolista Torrevento Basque Norbarese sfida la morte Secondi Rai Ennamoroso Si alza lui da tre punti Rai Ennamoroso dai tre punti Sopra i venti punti da almeno cinque partite Attenzione alla grande azione di Rai Sopra i venti punti da almeno cinque partite 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 Sopra erano immaginomi Grazie a tutti. 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 Per Amoroso 21 punti, 9 rimbalzi, un'altra prestazione importante per Amoroso realizza, schiacciata, paurosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.